La famiglia è complicata, giusto. Pensavo che la mia famiglia fosse la più felice e invece no. Come quando un gavettone è troppo grande e poi esplode, i miei si sono separati dopo una grande stupida lite. Dopo ciò papà se ne andò. A me e alla sorellina Katie fu data una scelta dura. Uno di noi sarebbe rimasto con mamma e l'altro sarebbe andato con papà e la sua nuova ragazza, Zara. Katie è dolce, gentile e sensibile, quindi sradicare la sua vita e farla vivere con una matrigna non sarebbe stata una bella idea. Sono un fratellone, proteggere la sorellina è il mio forte. Così fu deciso, Katie rimase con mamma e io andai da papà e Zara. Alcuni mesi dopo mamma si innamorò di un tipo chiamato Glenn e lo sposò. Non ero sicuro di Glenn. L'avevo visto un paio di volte ma era troppo arrogante per i miei gusti. Ma tornando a papà, la mia vita con loro era una passeggiata. Mi lasciavano uscire quando volevo e a malapena facevo le faccende. In realtà Zara non era cattiva, ero uno di famiglia e per il mio sedicesimo compleanno ha detto a papà di stupirmi con un'auto tutta mia. Giorni felici! Ma c'era un intoppo. Dai messaggi di Katie ho capito che le cose non erano rose con lei, così andai a mostrarle la mia auto. Beh, in realtà era solo una scusa per controllare le cose. Entrai in casa e vedi Katie svuotare la lavastoviglie. Stava piangendo. Cioè le faccende fanno schifo ma non così tanto da far piangere qualcuno. C'era sotto qualcosa. Le feci un drink e ci siamo seduti a parlare. Lei mi disse che era Glenn. Lei non gli piaceva e la metteva sempre nei guai. Katie disse, mi considera una spina nel fianco perché vuole che la mamma passi tutto il tempo con lui. Voleva che facessi tutte le faccende ma quando mamma tornava dal lavoro diceva che le faceva lui. Se cercavo di parlarne mi metteva nei guai dicendo bugie su di me a mamma. Come quando disse che avevo imprecato e che gli avevo rubato venti dollari. Non mi piaceva tutto questo, così le chiesi, hai provato a dire alla mamma di tutto ciò? Fece un cenno e balbettò. Sì, dice che sono solo pigra e gelosa. Risposi, la mamma è accecata dall'amore. Tranquilla sorellina, presto tornerà a ragionare. Lei trattenne le lacrime e disse, lo spero Rory, le cose fanno schifo qui. Le chiesi di dirmi quando Glenn faceva qualcosa di nascosto. Oh, venne fuori che al tipo piace giocare sporco. Giorni dopo scambiò l'olio da cucina con il whisky, così quando mamma iniziò a cucinare tutto andò in fiamme. Glenn si precipitò in soccorso e incolpò Katie, dicendo che l'aveva vista con il whisky in mano ieri sera, ma che pensava cercasse di berlo di nascosto. Poi disse che Katie voleva che lui cucinasse la sua bistecca, quindi lo scherzo era destinato a lui. Mamma ha subito creduto a lui e ha punito Katie facendole perdere il ballo della scuola e fare i lavori di casa. Povera Katie, era sconvolta. Ma una settimana dopo il vile Glenn colpì di nuovo. Katie lo vide cambiare la maionese dietetica di mamma con una grassa. Lei corse dalla mamma per coglierlo sul fatto, ma quando arrivò lo vide mettere la maionese dietetica nel suo bagel. La mamma gridò a Katie per aver detto bugie sul suo patrigno e la mise in castigo. Ancora! Che schifo! Mia sorella è tanto dolce e non si merita questo. Per non parlare del fatto che alcuni scherzi sembrano pericolosi. Beh, non quello della maionese, ma quello del fuoco poteva finire male. Questo Glenn doveva smetterla con i giochi. Era ora che gli mostrassi che nessuno scherza con la mia sorellina. Così suggerì di cambiare le cose per delle settimane. Katie sarebbe andata da papà conoscendo Zara e io da mamma conoscendo Glenn. Glenn non poteva scherzare con me e la prima settimana rimase fuori dei piedi. Usai il tempo per caricarmi, rilassarmi, godermi il cibo di mamma e tramare la vendetta. La seconda settimana arrivò ed ero pronto a rendere la vita di Glenn una miseria. Che sfiga, Glenn! Mamma lavorava duro, dato che Glenn aveva perso il lavoro. Così, essendo un buon figlio, la portai al supermercato. Mamma era felice del mio aiuto e mi promise di farmi la mia frittata preferita. Arrivati a casa, mamma chiamò Glenn per aiutarla a portare le buste. Lui cercò di impressionarla portandole in una volta, ma una si aprì e la spesa andò ovunque, compresa la scatola di uova. Ups! La mamma era furiosa e urlò, ecco cosa ottieni quando ti metti in mostra e fai l'uomo forte. Ora non posso fare la frittata per la mia cena e volevo tanto farla! Ah, vedere la sua espressione stupita era esilarante. Sì, ho fatto un buco sul sacchetto così che ciò accadesse. Non avevo finito con lui, non a scampo! Così, nei giorni dopo, quando mamma uscì presto per il lavoro, versai cereali ovunque, misi la biancheria sporca a terra, misi la ciotola del cane sul divano e camminai con le sneaker sporche. Ho preso la colazione fatta da mamma per Glenn, così si sarebbe svegliato affamato e avrebbe passato il giorno a pulire il casino. Ah ah! Ovviamente Glenn non era felice di me. Così, quando tornai da scuola, mi costrinse a tagliare il prato. Lui sembrava stanco di aver passato la giornata a pulire le mie cose, quindi era ok. Quando mamma tornò a casa e mi vide, ho ansimato, dicendo, sono molto occupato con la scuola, ma Glenn mi ha fatto fare le faccende, sono stanco mamma. Mamma corse dentro e trovò Glenn guardare i cartoni. Poi gli urlò, sei sempre a casa, perché non tagli il prato invece di farlo fare a mio figlio? Io dovevo lavorare, mio figlio aveva le faccende, quindi qual è il tuo ruolo in questa casa? Glenn era senza parole, ma non finì lì. Mamma era così furiosa che lo fece dormire sul divano. Glenn mi evitò dopo questo, ma non bastava. Dovevo fargli lasciare in pace mia sorella. Dovevo fargli capire che i suoi modi bruschi erano sbagliati. Mamma e Glenn avevano un salvadanaio per il loro futuro figlio, così quando non c'erano mi intrufolai nella stanza, ruppi il salvadanaio e nascosi i soldi nella giacca di Glenn. Quella sera dopo cena chiesi a mamma se potevo prendere le sue cuffie, così lei andò in camera per prenderle. Proprio allora Glenn prese la giacca e stava per uscire. Quando uscì dalla porta sentimmo un urlo frenetico da sopra. Era mamma. Avrà trovato il salvadanaio rotto e corse di sotto urlando a Glenn. Lui rimase sulla porta confuso, ma poi lei controllò le sue tasche e voilà! C'erano i soldi! Glielo sventolò in faccia con rabbia. Cos'è questo, eh? Stai andando a spendere risparmi per nostro figlio? Non stai facendo soldi, smettila di rovinare tutto! Portarono fuori la discussione, così andai in camera e guardai dalla finestra. Poi una macchina si fermò e ne uscì una ragazza ben vestita. Oh wow! Era Katie! Corse verso la mamma e l'abbracciò. Poi apparvero papà e Zara. Beh, Katie si era divertita molto da papà. Zara ha sempre voluto avere una figlia, così quando Katie arrivò lei era felice e avevano fatto shopping i capelli e l'aveva viziata. Quando mamma guardò sua figlia avere una vita migliore con la matrigna, ero sicuro che avesse capito quanto fosse cattiva. Notai la sua faccia imbarazzata. Corsi di sotto e salutai mia sorella. Poi mi rivolsi a mamma e dissi, mamma devi prenderti più cura di Katie. Vedi Glenn ha trattato male anche me. Non sai quanto è stato duro con lei. Ti amiamo, fidati di Katie come ti fidi di me. Poi mi rivolsi a Glenn. Tu sei suo marito ma non puoi sostituirci nel cuore di mamma. Le mamme amano sempre di più i figli. Non essere infantile, non separarci o tornerò. Feci l'occhiolino. Sì, ok, grugnì. Poi si girò verso Katie e disse, mi dispiace Katie. Che ne dici di ricominciare? Katie sorrise dolcemente e disse, ok, va bene. Sembrava avessi salvato la giornata. Glenn sapeva che se avesse fatto di nuovo casino con Katie sarei tornato. Dopo ciò, mamma continuò a far fare a Glenn le faccende, ma Katie essendo molto dolce lo aiuta. Quanto a me, tornai alla mia vita da papà. Andai lì più spesso per controllare Katie e portare mamma al supermercato. E Katie veniva spesso per grigliate sessioni di coccole con Zara. Così alla fine tutto funzionò e ora siamo una grande pazza famiglia normale. Ma ehi, finché tutti sono felici e non cercano di incasinare la mia sorellina, per me va bene tutto.